Buon venerdì 15 gennaio. Dunque siamo ormai prossimi al seminario di domenica 17 gennaio sulla tema della la sacra famiglia. Può essere un titolo sconcertante per qualcuno. Magari qualcuno pensa che vogliamo semplicemente approfondire l'aspetto religioso e invece noi approfondiremo l'aspetto antropologico che naturalmente comprende anche la dimensione che riguarda il rapporto con il mistero cioè con la regione con il sacro con l'invisibile con ciò che noi non possiamo percepire direttamente ma è quello che occupa la nostra coscienza per gran parte delle nostre giornate e per gran parte anche delle nostre notti ed è fatto di realtà concrete ma invisibili e sono le nostre esperienze i segni nella nostra memoria che selezioniamo, rievochiamo, filtriamo e in questa memoria c'è anche la famiglia da cui abbiamo preso origine che intravediamo come un blocco omogeneo in una istantanea che sembra fissarla in un tempo eterno, immutabile. In realtà quella immagine del passato che condiziona senza che noi ce ne rendiamo conto le nostre reazioni emozionali e sentimentali nei confronti del prossimo, i nostri sistemi di valori, i nostri obiettivi, le nostre aspettative e le nostre speranze, tutto questo abbiamo incominciato ad acquisirlo dentro alla famiglia che alla quale siamo arrivati sì per amore nella gran parte dei casi, non sempre, non sempre perché c'è anche una nascita nella pura casualità, non dimentichiamoci c'è anche una nascita nella violenza. Questo noi lo sottovalutiamo nella incomprensione. Ci sono nascite che cercano anche di emendare una conflittualità irriducibile. Speriamo che facendo un figlio riusciamo a ritrovare un nostro equilibrio, superare i nostri egocentrismi, porre fine a un disturbo del comportamento. Sto dicendo una cosa strata, sono cose che accadono e se ci centriamo sulla parte di maggiore sofferenza dell'umanità, per ragioni diverse naturalmente, nei paesi a forte tasso di povertà è chiaro che il quadro antropologico e sociale è profondamente diverso da quei paesi nei quali vi è addirittura un'eccedenza di denaro. Però la sensibilità degli esseri umani è uguale ovunque. Il risultato del rapporto tra la sensibilità e l'esperienza è naturalmente profondamente diverso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, molti anni fa, ormai sono passati decenni, pubblicò un documento nel quale si sottolineava che la salute ha profonde radici sociali e lo confortava con fatti solidi, non astrazioni teoriche o ideologiche. La salute ha a che fare con le dinamiche sociali e culturali. E naturalmente se ci concentriamo sulla salute esistenziale, mentale, dove i fatti appartengono all'invisibilità, per quale ragione? Io vivo una condizione di paura nei confronti di qualcosa che è del tutto invisibile, ma che sento minaccioso. Non sto pensando in questo momento all'epidemia. L'epidemia ha un'entità che è stata evidenziata attraverso la sofisticazione tecnologica, ma ci sono condizioni umane nelle quali si è ossessionati da qualcosa che alla prova dei fatti non esiste, però interferisce pesantemente sulla vita delle persone. Sono tutte quelle condizioni che generano un'angoscia, una paura per qualcosa che non riusciamo a oggettivare, a rendere presente. Penso a tutte le forme ossessive di un lavarsi, non per ragioni sanamente di igiene, ma semplicemente di decontaminazione rispetto a qualcosa che in realtà la tua ragione te l'ha detto in maniera molto chiara, non esiste, però io ho paura, sono angosciato. E liquidiamo la questione dicendo, bah, è un problema psichiatrico. E magari troviamo anche l'espressione linguistica che riesca a rappresentare in una parola sola quella condizione complessa. Ebbene, tutto questo nasce, si evolve e si sviluppa dentro il nostro rapporto con l'esistenza che appunto, almeno in questa parte della storia umana, si sostanzia e si concretizza nell'esperienza familiare. Naturalmente, nel momento in cui noi viviamo tutto questo da persone adulte, quell'esperienza familiare si è si è evoluta, ma noi non riusciamo a cogliere il film, vediamo soltanto il fotogramma. E nella relazione affettiva, duratura o estemporanea, che caratterizza la vita delle persone, magari frequente o rara, nel quale incontriamo un'altra persona che a sua volta ha delle radici profonde, diverse e radicalmente, a volte anche contrapposte alle nostre, non solo diverse, a volte anche contrapposte. C'è la fase dell'innamoramento dove tutto questo rimane in ombra. a mano a mano che ci si conosce e si scoprono anche i difetti. Questi vengono di solito attribuiti alla genealogia, a una specie di presunzione genetica. Se nella storia familiare delle persone ritroviamo parenti, prossimi o lontani, che hanno vissuto esperienze di disagio mentale, di alcolismo, sempre di più potremmo trovare anche di uso di sostanze stupefacenti illegali o di inclinazione alla dissipazione economica attraverso il gioco, la scommessa, il gioco delle carte, per le generazioni molto più vecchie ovviamente. Oppure la dissipazione anche di natura sessuale, l'infedeltà. Ecco che allora scattano gli allarmi e si costruiscono destini ineluttabili, si caratterizzano le persone, si descrivono personalità geneticamente determinate, dove il biologico, il culturale e i sociali si intrecciano, per non parlare quando l'innamoramento scatta tra cultura e diverse e naturalmente nel tempo corrente può accadere con sempre maggiore frequenza. Ebbene la famiglia inevitabilmente condiziona la nostra esistenza, ponendo questioni relative al fatto che alcuni di questi condizionamenti sono virtuosi, altri sono terribilmente dannosi e nella genealogia virtuosa noi identifichiamo la sacralità della famiglia oppure la dissacriamo. In entrambi i casi non cogliamo che siamo destinati a vivere nella transitorietà, che la famiglia dalla quale noi proveniamo a un certo punto evolvendo di fatto non esiste più e a sua volta è stata generata da qualcos'altro che si è evoluto, ma restano le tracce. E allora questo richiede una costante attenzione per non cadere nella trappola dell'attribuzione genetica dei difetti che incontriamo, delle insensatezze che sembriamo incontrare. Sembriamo perché noi stessi alla fine appariamo per quello che in realtà non siamo. Sarebbe bello non poter più declinare il verbo essere, ma semplicemente entrare nella condizione del sembrare, un sembrare evolutivo con un costante cambiamento. Se riusciamo a porci in questa dimensione, guardate, non cancelliamo naturalmente la storia e il passato. Ma non attribuiamo a questo la capacità di determinare il nostro destino, perché se noi facciamo questo eludiamo una questione fondamentale che è il caso. È il caso che muove l'evoluzione ed è la nostra responsabilità che in qualche maniera cerca di far fronte al caso armonizzando le nostre esistenze rispetto alle condizioni date. Per cui quando troviamo le insensatezze, sì, analizziamole pure alla luce del passato, ma liberiamoci dall'idea che quel passato sia unidirezionalmente capace di orientare le nostre esistenze. È un'operazione difficile da fare perché noi veniamo da una lunga epoca storica di riduzionismo interpretativo, nel quale si è dato troppo valore alla genetica un po' raffazzonata e che ha illuso una questione fondamentale che è l'epigenetica, cioè di come il processo evolutivo moduli le informazioni che sono in noi e che sono naturalmente ricche di spunti che non riguardano la nostra sola famiglia di origine, ma noi troviamo tracce di tutto il percorrere della vita fin dalla presenza primaria della vita stessa, del vivente. in noi tutto questo c'è. È ovvio che in qualche maniera ci condizioni. Torno all'esempio delle forme paranoiche che oggi potrebbero essere in qualche maniera giustificate, ma anche essere alimentate. E allora, se vogliamo affrontarle serenamente, dobbiamo darci tempi lunghi, così come per quanto riguarda i disturbi del comportamento o la salute mentale, per ridare senso alla nostra esistenza, ne parleremo domani, sull'attualizzazione, sul vivere il qui ed ora, o come ci suggerisce Adriano Policicchio, da qui, ora, in avanti, progressivamente, per arrivare appunto a domenica, riflettere sulla nostra posizione prospettica, capace di accogliere la trasformazione attraverso un'educazione. È una rieducazione continua e costante, non è una condanna andare al club per tutto il percorrere della nostra esistenza. Anzi, è un esempio virtuoso di come si dovrebbe vivere nell'idea di non essere mai compiuti, ma sempre in compimento, di essere costantemente esposti alle suggestioni più bizzarre, ma essere anche dotati di una capacità di superarle costantemente. Per questo, guardate, la ricaduta, il ripetersi di errori, non è una condanna, ma è uno stimolo all'apprendimento. Però, dobbiamo anche essere consapevoli che questa società si sta muovendo verso la staticità e non è molto disponibile a riconoscere la necessità di un apprendimento continuo. Pur avendone estremo bisogno, lo stanno dimostrando, vengo alla fine della mia riflessione, anche le molteplici manifestazioni di insufficienza del patto sociale nelle forme della democrazia. La democrazia rappresentativa è profondamente in crisi e, contemporaneamente, un sottile potere, come ci ha ricordato Umberto Curi in una conferenza di qualche giorno fa, richiamando il pensiero di Foucault, questo potere si esprime in maniera reticolare. E rispetto a questo potere, la politica stessa, che ha abdicato alla funzione di auto-educazione e auto-rieducazione costante per il bene comune, la politica stessa non è più in grado di contenere. Certo, noi non possiamo abdicare alla nostra responsabilità sociale e non possiamo rifugiarci in una famiglia emblematicamente rappresentata in una idealizzazione che magari abbiamo colto nelle nostre origini. Non cancelleremo le nostre origini, ma apriamo gli occhi, perché noi siamo destinati a essere compartecipi responsabili al processo evolutivo, coltivando un'attenzione verso il sacro, la sobrietà e il bene comune. Buona giornata a tutti.